Sono assessore all'ambiente e comunque anche alla mobilità sostenibile, credo che in questo discorso possa essere anche importante, rappresento qui il sindaco, la città di Barletta, che è aderito all'autorità portuale del Levante da due anni abbondanti e quindi anche su indicazioni, devo dire, dall'ora del Ministero Infrastrutture, effettivamente la concertazione sta dando dei frutti e quindi li stiamo vedendo. Chiaramente Barletta è una città con un porto, rappresenta il porto della provincia, neonata a Barletta-Antriatrani, una provincia che si affaccia bene sul mare e sulla città di Barletta, un porto abbastanza antico, con vocazione commerciale, però con un progetto importante di un porto turistico, quindi nella nostra città, presentato alla città diverse volte, quindi si sta provvedendo a realizzare questa grande struttura e non abbiamo disdegnato assolutamente, anzi ci crediamo nella possibilità di collegare la città di Barletta, quindi il territorio dalla provincia a Barletta-Antriatrani con i territori frontali alla nostra città. Abbiamo tentato diverse volte con diversi collegamenti, ci sono stati tentativi che sono stati provvisori, sono stati ingoraggianti, però ha necessità il porto, attraverso l'autorità portuale, di poter vedere realizzate quelle che sono le infrastrutture, il dragaggio, problematiche che conosciamo a livello dell'autorità portuale e che sicuramente potranno favorire quelli che sono gli scambi, perché il nostro territorio è diverso da quello della Valle d'Itria e sicuramente può in concertazione con la Valle d'Itria e con Bari riuscire a dare opportunità maggiori alle città che dall'altra parte dell'Adriatico si affacciano. Sicuramente una concertazione maggiore quindi con la città di Monopoli, con la città di Bari potrebbe riuscire a dare dei vantaggi un po' a tutti. La pace che è presente, mi ha fatto piacere sentire il rappresentante dell'UNESCO, questa pace che noi abbiamo anche ricercato, ci sono diversi volontari della città di Barletta che sono affacciati in periodo di guerra dall'altra parte per portare un sacco di contributo dal punto di vista umano, dal punto di vista anche raccolta di fondi, abbiamo fatto tantissimo, ci sono diversi barlettani che hanno collaborato con quei territori in guerra e quindi sicuramente oggi i vantaggi credo che sarebbero quelli di ricevere dall'altra parte turisti e quindi anche noi cercare di andare da quella parte. Credo che appunto l'autorità portuale possa sinergicamente funzionare bene e quindi far crescere i popoli e questo scambio virtuoso potrà continuare. Vi ringrazio e buon lavoro.